Sindaco, a quest'oggi primo incontro con la termocalcio del gestore dello stadio. Sul piatto c'è un nuovo tipo di accordo per quanto riguarda l'impianto prettamente sportivo. Diciamo a favore della termocalcio, a che punto siamo? Questo primo confronto è stato utile proprio per prendere atto di quelli che sono i rapporti tra i due soggetti e per valutare fin da subito con gli uffici quelle che possono essere le strade ottimali per consentire una gestione ottimale dell'impianto a servizio della città e per consentire anche alla termocalcio di poter svolgere il suo ruolo centrale che assume per l'intera comunità teramana, anche per un rilancio sia dell'impianto ma anche del futuro della termocalcio che sta a cuore oltre che a me ma all'intera città. Presidente, questo primo incontro con il Sindaco, questa mattina come è andata? Possiamo tracciare un primo bilancio? Bene, bene, positivo, ci ha accolto molto presto, ha ascoltato, penso che ci sia la volontà da parte sua, poi giustamente dovrà anche riferirlo a un consiglio e i tempi tecnici, io credo che la cosa si potrà chiudere a breve perché facciamo un bene per la città, un bene per tutti e mettiamo a reddito un prodotto che è quello stadio che possa portare qualche beneficio un attimino a tutti perché lo mettiamo a reddito. Abbiamo le volontà, adesso giustamente abbiamo rappresentato alla figura del Sindaco per un doveroso rispetto a quali erano le nostre volontà, adesso il Sindaco studierà il caso, chiamerà le persone competenti a venirci incontro e a studiare bene qual è la soluzione tecnica per raggiungere l'obiettivo comune che ci siamo proposti. Oggi è stato richiesto un percorso diverso, ha visto me totalmente convinto anche di questo, chiaramente abbiamo sopra di noi un comune che è il vero effettivo proprietario dello stabile a cui dobbiamo rendere conto delle nostre azioni e come imposterà meglio questa fattiva collaborazione.